Il 29 e il 30 novembre, grande festa al Liceo Medi di Battipaglia. Chiediamo alla dirigente, la professoressa Roberta Talamo, in che cosa consisteranno questi due giorni e qual è il messaggio che volete lanciare alla città. In questi due giorni festeggeremo il cinquantesimo anniversario del Liceo Medi. Sono doppiamente orgogliosa perché sono stata allieva di questo liceo, come tanti a Battipaglia. Sono da quattro anni dirigente, mi onoro di dirigere il Liceo Medi e devo dire che in questi anni la realtà del liceo stesso è completamente cambiata. Dal Liceo Scientifico Statale siamo passati a una pluralità di indirizzi, il Liceo Scientifico Scienze Applicate, Linguistico e Classico, una pluralità di laboratori, di iniziative, di progettazione sia curricolare che extracurricolare. Il liceo è radicato sul territorio ed è proprio questo che in queste due giornate vogliamo evidenziare. La prima giornata, il 29, sarà una giornata istituzionale con gli inviti autorevoli dalla Sindaca Cecilia Francese, al Presidente della provincia Guzzo, al Presidente della BCC che è nostra banca cassiera e poi per passare all'Ufficio Scolastico Provinciale come Miminelle al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Ettore Acerra, e il Dottore Acerra che ci seguirà da remoto. Poi sicuramente scopriremo il nuovo logo del Liceo Medi che abbiamo pensato per il cinquantenario, c'è stato un contest, quindi premeremo il logo vincitore e i ragazzi del Corio si esibiranno perché da anni stiamo portando avanti il progetto del coro del Liceo Medi. Abbiamo dei pianisti e anche dei ragazzi che stanno studiando con una nostra docente da qualche anno. Invece il 30 sarà aperto agli ex, agli ex alunni, agli ex docenti, ex dirigenti. Sarà il momento per ritrovarci, per rincontrarci, per scambiarci esperienze, pareri, emozioni e sarà anche la cartina di Tornasole per capire quanti passi avanti abbiamo fatto il Liceo Medi, come si è cresciuto con la città e quanto adesso si è inserito nella realtà territoriale, sempre mirando, perché dall'inizio, dalla sua origine, l'obiettivo è sempre stato lo stesso, il successo formativo dei nostri allievi.